Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video horror del Venuti Oggi il video sarà diverso da solito poiché ho deciso di raggruppare i miei termistamenti più spaventosi da quelli che abbiamo visto in questi 10 video horror Ma prima di cominciare mi raccomando lasciate like, iscrivetevi e attivate la magica campanella di notifiche se non l'avete già fatto Seguitemi su Twitter e leggetemi i pensieri di mezzanotte e iscrivetevi al canale di Martins Luigi e di Yoman Il link li troverete in descrizione, detto questo possiamo cominciare Sì, andiamo questo butchè, dove gli altri ragazzi, dove gli altri ragazzi Perchè, dove gli altri ragazzi Oh, iscrivetevi, come? Oh, è un po' Oh, è un po' Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti I'm Zoe and I'm just going to dance in the road and there's no cars coming so let's do it Who is that? Oh he's got a knife! Oh he's got a knife! Grazie per la visione 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 This is like the psych ward This is where they kept the crazies What? Did you watch the asylum? They film the same thing? Ok, this is... Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione